Primo allenamento con il nuovo allenatore del Trepini Marco Palazzo allo stadio Ferrante di Piedimonte sotto gli occhi attenti di un gruppetto di tifosi con il nuovo mister in campo a dare istruzione ai suoi sul nuovo modulo che la squadra fin dalla prossima giornata dovrà adottare e mettere in campo per superare la gara di sabato con il campo di Pietra dopo una intensa settimana di tensioni ormai note a margine degli allenamenti il nostro imito bianchi ha avvicinato il nuovo allenatore del Trepini per capire meglio quali saranno ora i programmi della squadra alla luce di una rosa ristretta per alcuni giocatori che hanno lasciato la squadra e soprattutto cosa la società ha chiesto al nuovo mister in termini di obiettivi. Ma sinceramente in questo momento stiamo ancora valutando il da false poiché sono arrivato che la squadra sta avendo delle difezioni soprattutto a livello numerico il fatto che sono andati via degli elementi importanti ecco quindi devono essere in qualche modo rimpiazzati. Mi fa piacere innanzitutto di essere arrivato in una piazza importante che ha delle ambizioni importanti anche se all'inizio diciamo che la società si era prefissa in qualche modo di vincerlo questo campionato ma a mio avviso a mio avviso. Ci sono dei margini perché Pietimonte possa ancora sperare in qualcosa di positivo? Ma l'entusiasmo ci deve essere ma soprattutto bisogna andare avanti e convincere che qualcosa in più si possa fare è inutile promettere delle cose che a mio avviso in questo momento è un po' difficile il fatto che comunque davanti ci sono un paio di squadre venendo dal campionato molisano venendo dall'eccellenza e dal molise e dalla vincenia ci sono delle squadre le due o tre che sono superiori. Cosa manca in questo momento? E in questo momento comunque manca un centrocampista di qualità che sappia un po' dare degli ordini che gioca in profondità che ci dia un po' di equilibrio ma soprattutto ci dà anche quelle esperienze in mezzo al campo e a mio avviso manca una prima punta. Manca una prima punta con l'addio di Di Matteo la squadra io ho visto delle partite con Marco davanti e la squadra ha perso è inutile nascondersi dietro un dito la squadra ha perso tanto ecco. Un portiere? Anche il portiere manca a questa squadra c'è solamente Zotti e Romagnini quando può venire. Sì e proprio di questo stiamo parlando in questo momento con alcuni dirigenti anche questo insieme al direttore sportivo ieri sera abbiamo parlato e stiamo valutando il da false che da solo Zotti giustamente non può portare avanti soltanto lui la situazione. Siamo ottimisti ma siamo vigili sul mercato è difficile avere fretta in questi giorni secondo me bisogna aspettare i primi giorni di dicembre che si apre il mercato c'è la possibilità anche tecnica di poter inserire degli elementi importanti e cercheremo di farlo. Sabato prossimo la prima partita qui al Ferrante spera di vincere? Noi dobbiamo giocare sempre per vincere anche che a volte sembra quasi delle frasi fatte però è così. Arriva una squadra che è diversa da quella che hanno affrontato in Coppa Italia è letteralmente diversa davanti hanno Stefano Zullo hanno Carmine Guglielmi gente che ha fatto sempre camminare di serie D e si vede che è una squadra che nonostante in quella posizione di classifica è una squadra che in dieci partite ha fatto 22 gol. Quindi è una squadra che segna 2,1 gol a partita quindi dobbiamo essere bravi e attenti a non sottovalutare la gara. Noi dobbiamo giocare solo per vincere. In bocca a loro. Crepi. Dal Ferrante tutto Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it